Un saluto a tutti i telespettatori di Gossip News Qui c'è il cinema, io ho vinto il Globo d'Oro dieci anni fa oggi sono qui a consegnarlo a un altro attore giovane, a un'altra attrice giovane quindi queste cose le metto un po' da parte Certo, fa piacere, fa piacere Per cosa lo vinceste il Globo? Per Portsus nel 98-99 Che emozione è stata? È stata bellissima perché non me l'aspettavo nel film aveva avuto 5 nomination ho vinto solo io in mezzo ad attori enormi avevo 25 anni, è stato importante Per te com'è cambiato anche il tuo approccio a questo mestiere? Mi sono un po' ritirato nel mio, nel senso che vivo solo questo lavoro e basta e questo non è bello a volte perché oggi mi ritrovo qui dopo tanti anni non vedo gente da un sacco di tempo e ogni tanto penso che stare sempre per i fatti miei fa male Ma tu sei riservato di natura? Sì, sì, troppo Sei anche timido? All'esasperazione quasi riservato Addirittura? Sì, sono chiusissimo su certe cose so sempre per i fatti miei, sono lontano dal giro il mio cellulare non ha nomi di attrici, attori però nello stesso tempo amo e voglio bene tutta questa gente Grazie a tutti